Il seggiorino auto Arra Next è omologato ai Sights e può essere utilizzato dai 40 agli 85 cm. Lo schienale si può reclinare in tre posizioni fino a raggiungere una reclinazione di ben 157 gradi, quasi sdraiata. È curato nei minimi particolari per offrire il massimo del comfort e della sicurezza. Ha una scocca solida e robusta e protezioni dagli impatti laterali grazie al sistema SIP di Nuna con schiuma EPP integrata che assorbe l'energia in caso di impatto. Poggia testa in schiuma brevettata Taylor Tech regolabile con una mano in 10 posizioni. Capottina con OV50 Plus e finestrella a rete traspirante. Inserto in lana Merinos con fibre di Lion Tencel che sono dei termoregolatori naturali che permettono al bambino di non sudare. Le cinture si regolano simultaneamente senza bisogno di rinfilarle per seguire la crescita del bambino. Per allungarle basta schiacciare la levetta e tirare le cinturine fino alla lunghezza desiderata. Arra Next si può utilizzare solamente agganciato su base Isofix e va posizionato contro il senso di marcia. L'installazione su base Next è semplicissima in quanto può rotare di 360 gradi. Con Arra il bambino può viaggiare sdraiato anche in auto senza rinunciare alla sicurezza. Per togliere il passeggiorino dalla base basta schiacciare il tasso laterale. Arra è compatibile con tutti i passeggini in una.